Napoli come città rifugio per Aleppo e per gli altri popoli vittime di guerre. E' il tema al centro del convegno promosso dal Comune con l'Università all'Orientale con l'obiettivo di mettere in campo iniziative di solidarietà e creare una rete stabile per le emergenze umanitarie. A discuterne presso il Palazzo Dumesnil in Via Chiatamone c'erano il sindaco Luigi De Magistris con la rettrice della facoltà Elda Morlicchio ed i rappresentanti delle organizzazioni che da anni operano ad Aleppo. Non abbiamo intenzione di fare dichiarazioni ideologiche di nessun tipo. Il nostro fine, lo scopo per noi più alto è quello di riuscire a ottenere dei risultati operativi nell'immediato futuro. Abbiamo diviso questa giornata in due parti. La prima parte è destinata all'archeologia, ai resti storici che sono materie tradizionalmente insegnate presso l'Orientale. La seconda parte della giornata invece sarà dedicata all'intervento umanitario uniendo tutti quegli operatori che in settori diversi lavorano su questo tema. La giornata, articolata in due momenti, ha visto il coinvolgimento di studenti universitari e delle scuole superiori ed è stata un'importante occasione per riflettere sulla storia plurisecolare della Siria, dell'emergenza politica, umanitaria e sanitaria e valutare un piano condiviso di assistenza con istituzioni locali ed ospedali. Non è solo una vicinanza politica, umana, di solidarietà, ma con questa iniziativa abbiamo voluto lanciare anche dei segnali di concretezza, trovando una disponibilità eccellente da parte dell'Università Orientale, dell'ospedale Santo Bono Posillipon, quindi creare dalle città rifugio come Napoli, come Barcellona e come altre dei corridoi umanitari sicuramente più piccoli di quelli che dovrebbero fare i governi nazionali e che non fanno. L'Europa, le Nazioni Unite, le grandi potenze non riescono a garantire corridoi umanitari per questa tragedia incredibile che si sta consumando in Siria e ad Aleppo. Allora noi vogliamo dare dei segnali, come abbiamo fatto nel passato per Gaza, per la Cisordania, per la Palestina, per i Sarawi, riuscire per esempio a curare i bambini di Aleppo nei nostri ospedali, attraverso la nostra azienda dell'acqua pubblica, quindi decidiamo noi dove poter aprire delle fonti d'acqua, magari garantire l'acqua attraverso la nostra azienda che subito si è mostrata disponibile. Insomma questo significa città rifugio, creare ponti di dialogo, di solidarietà, di concretezza, di umanità e denunciare anche le nefandezze che mettono in campo certe volte i governi nazionali, i governi occidentali, pensiamo all'acquisto e forniture di armi, pensiamo alla totale assenza di una politica estera dell'Unione Europea, una totale ipocrisia sulle politiche delle migrazioni, cioè ci troviamo di fronte al fatto che oggi le comunità, le associazioni, i movimenti, i sindaci possono offrire un'alternativa, appunto oggi con questa iniziativa Napoli città rifugio si vuole dire questo, che Napoli è una città che costruisce ponti di dialogo, di solidarietà, di accoglienza, non erge mura, non mette filo spinato e vuole costruire un altro Mediterraneo e non essere complice di un genocidio che si sta consumando nel mar Mediterraneo e nemmeno complice dell'indifferenza di tanti governi nazionali, europei e internazionali.